Yugi a tutti ragazzi ben ritrovati sul canale io vorrei dirlo ma non riesco più a passare qua perché sono chili e chili di carte quindi ho il mio metro quadrato dove registro e basta oggi oltre le scatole che vedete qua davanti abbiamo un lotto incredibile si tratta di più di 2.500 euro di album e ovviamente di scatole piene di carte se volete liberarvi di carte di yugi magic pokemon dragon ball one piece force of will e digimon trovate il link del mio instagram qua sotto in descrizione contattatemi mandatemi le foto e se c'è qualcosa di interessante se ne può parlare detto questo io procederei con l'opening allora prima di iniziare con vabbè tutte le scatole vi voglio far vedere un deck box che mi ha dato il ragazzo perché è veramente figo dell'ultimate guard tanta roba mi sa che questo diventerà quello mio ufficiale anche se sono molto affezionato a quello che ho attualmente perché tipo sono dieci anni che uso quello quindi sento un po' di nostalgia nell'abbandonarlo ma vabbè procediamo con le carte che a voi del resto delle mie emozioni non interessa niente allora andiamo a vedere che cazzo ho preso perché boh io non me lo ricordo neanche più allora io inizierei con questa roba che secondo me è tutta palta sì probabilmente c'è roba di ghost from the past anche qua questo bellino contra attaccante c però mi sa che per il resto è toda da spazzatura sarebbe bello trovare qua a mezzo il teni ultra perché sta qualcosina vabbè abbiamo lanciacupido e roba plunder manju che non è male poi 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 abbiamo roba agent poi 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 abbiamo roba dd praticamente tutto quello che c'era all'interno del set poche parole poi abbiamo anche un circular super da pote poi da lambertiano tra codificatore trasmittente poi vabbè qua un po' di spazzatura vediamo eh abbiamo ruggito salamagnas conflitto one for one sepoltura un altro circular però ce ne abbiamo due vabbè abbiamo un terreno dell'altra dimensione dion inis da igas che non è male poi abbiamo satama bello o queste sono più carine centauria poi poi abbiamo i yazi o circular abbiamo il terzo top micro codificatore poi roba inis moltiplicazione nabla e palta x generica a posto beh dai siamo partiti benino niente di trascendentale diciamo benino poi vediamo qua secondo me sarà tanta spazzatura ho questa netta sensazione allora allora sì 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 questa è solo roba inutile cioè wow un inti distrutto va bene e qui ragazzi vado veloce perché se non esce qualcosa di bello non c'è senso neanche che ve lo faccio vedere uh vabbè mamma mia la roba la roba nuova via 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 non c'è non c'è non c'è niente vabbè il resto sono due foil senza senza anima e per il resto boh un po' di roba da double penso che sarà la roba migliore che troveremo dentro questo scatolone vabbè c'era un una balena immortale terrestre però per il resto sì sì questa è tutta roba tutta roba modella wow dai andiamo sull'ultimo scatolone e poi passiamo alla roba vera la roba vera che mi ha fatto spendere tanti i soldi allora allora abbiamo un testalos no un mega testalos da mp15 poi abbiamo trasmodificazione a giottola che non è male bellina poi uh eh ragazzi no non è da bosh se non ricordo male è da mp però chi mi segue dagli inizi sa che io e questa carta abbiamo una storia incredibile non vi farò mai vedere quel video assolutamente scordatevelo neanche se arriviamo a 10k iscritti cioè ragazzi se arriviamo a 10k iscritti quest'anno vi faccio vedere il video più trash realizzato sul mio canale poi vediamo abbiamo roba da mp vabbè questa non ve la faccio neanche vedere perché è solo tanta roba vergognosa poi vediamo abbiamo inis roba da mp tanta roba da mp temerario secret bello da orcs e qua abbiamo uh caius da mp bello questo poi abbiamo roba malebranche bellina gold questo secret e uh bello questo nave controllo bottino moerk secret da iga oppure grista ah no sempre da mp e solda top questo lo tengo per me più che altro perché sono usciti nuovi supporti dino e non lo avevo per me quindi meglio così bene questa altra roba da mp e immondizia bene detto questo ragazzi passiamo all'album 1 fermi 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 ragazzi so che volete sapere cosa c'è all'interno dell'album da 2k e mezzo ma volevo chiedervi un favore prima di fine anno vorrei arrivare a 5k iscritti quindi visto che siete arrivati fino a questo punto vuol dire che il video vi sta piacendo e allora vi ricordo di lasciare like e di iscrivervi poi c'è pure twitch in descrizione se volete followare benvenga detto questo continuiamo col megalotto allora ragazzi ho alzato l'inquadratura per farvi vedere bene tutto perché qua c'è tanta roba grossa parliamo bam allora abbiamo 3 playset di ash uno secret uno ultra uno common e la mourner che ragazzi se non vorrei dire ma secondo me la mourner è la bambina più bella di tutte parlo a livello di artwork è veramente incredibile insieme a ghost ogre secondo me vabbè andiamo avanti poi abbiamo un playset di bell secret poi phantasmai secret che non si gioca però ragazzi è proprio bello poi due playset di padrone di teschi uno super e uno secret quello secret è un pochino rovinato però vabbè ci sta poi playset di caos hunter secret ovviamente ah cavolo uno in prima o due in seconda poi signori della prigione celestiale ovviamente tutti e tre in prima tutti e tre da bode poi pankratops e collezionista di segnalini ultra da poi abbiamo tre gamma ultra poi tre nibiru da tin poi tre lancia secret sempre in prima tre dd crow tre veiler da dude poi tre droll e cinque parallelic seed così fortuna che me ne sono procurato un altro così ho il doppio playset poi abbiamo due banishi un un ibly qua ce n'era un'altra ma me l'hanno chiesta l'ho venduta poi è stata di prezzo poi una alober soldato galattico lo psyframe pilota poi arcidaman drago rosso da ghost from the past che nel senso tocca vederlo bene dal vivo per quanto è bello poi drago firewall anche questo tocca vederlo bene dal vivo perché anche questa è una bella mina poi abbiamo apollusa altra carta da vedere dal vivo perché è una mina incredibile soprattutto perché è in prima poi vabbè abbiamo alminage secret mi sembra qua ci stava avormax secret venduto pure questo ragazzi ci ho messo un po' a far video quindi qualcosa mi è partito ma solo ste due poi abbiamo mascherena secret due fibrax un ling curibo garna tre suravis tutti e tre secret palese da inov secondo me questa più che drago la vedrei bene come uno young zing wyrm poi vabbè abbiamo numero 38 28 dugares numero 2 numero 97 e con l'extra finiamo qua andiamo alle trappole che ragazzi preparatevi perché qua non la tocco piano bam tre imperma ulti tre rivalità collector vabbè poi tre infinito tre scontro gozen tre designatore super tre maschera che sono tutte e tre no due in prima o in seconda nm o nm meno quindi carte un prezzo grosso poi tre cattura e tre ttt ah sì tre ttt sarebbe bello abbiamo tre ttt secret poi abbiamo per continuare per non farci mancare nulla abbiamo tre antispel nm da pcy se sa quanto costano poi tre prigione dmp tre giudizi ultra tre salm strike tre reverio verosso tre sbaglio e risucchiabilità non è ulti però è ultra da turbo pacotto passiamo adesso a le magie penso sia l'ultima roba che manca e anche qua diciamo non la tocco piano perché abbiamo tre raggi notturni ultimate in prima tre goccioline ultime e basta poi tre viaggio condiviso tre foolish goods secret tutte e tre darate poi tre giara della prodigalità da pack nm in prima spiritualismo non so perché lo avesse controllamente tre turmini gemelli palesemente secret ignorantissimi poi sarcofago d'oro sovrano secret ciclone secret da ddl no 2 da mp17 sfortunatamente poi tre pod of desire in americano per toccarla piano in prima poi mappa di piri race poi spolverino secret terraformaria secret che è carta palesemente più bella della sua versione ulti poi eric castrogobin poi per concludere per toccarla pianissimo magia easy mostro e suscitato l'art in americano così e per concludere poi abbiamo ignis con tre picari secret tre akiki secret tre island secret questo secret e un esto poi abbiamo anche metamatch con tre sottorazioni super tre sigma super tre addizioni super e senate mining ultra sfortunatamente e poi vabbè tutto il resto praticamente equazione super fattoriale vabbè un po' di robe di extra a caso o sigma trasmittente cald'anima link curibo e per concludere abbiamo tre da l'ambertiano e due da placiano quello che mi chiedo è perché ste carte sono state reprintate nella gold e costano comunque una 10 e una 20 euro cad tipo me lo spiegate perché è un po' anninculata nel senso c'è sono contento che costino così tanto però è un prezzo un po' insensato visto che la gold costa 20 centesimi così eh e poi basta abbiamo finito è stata una cavalcata enorme di roba così costosa che neanche io me la posso permettere no me la sono permessa però è stato difficile considerate che stavo sommando tutte le carte e alla fine quando ho visto la cifra finale porca troia ho controllato il mio conto di paypal e ho dovuto prendere i contatti e va bene ragazzi il video finisce qua spero come sempre vi sia piaciuto e fatemi sapere qua sotto con un commento qual è la carta più incredibile di questo lotto perché qua c'è roba veramente ma veramente grossa ovviamente vi rinnovo l'invito a lasciare un like di seguirmi su instagram di seguirmi su twitch e di seguirmi soprattutto su youtube detto questo ragazzi state me easy e noi ci vediamo domani sempre qua con un nuovo video ciao a tutti